per gli amici buongiorno e beh quest'anno comincia davvero male per una serie di questioni di ogni genere insomma una è la notizia che non avremmo voluto dare ma che era nell'aria da tempo purtroppo Gianluca Biali ci ha lasciato simbolo di una Juventus che alzò la coppa dei campioni l'ultimo capitano ad alzare la coppa al cielo gentleman persona molto gentile e molto elegante veramente un grande dispiacere e dolore Ezio buongiorno a te buongiorno a te Massimo buona epifania a tutti gli amici di Juventus una signora per due siamo nell'epoca dei grandi calciatori Viali Mancini Viali cito una intervista che ho letto recentemente si definiva un perfezionista ma qualcuno che aveva bisogno di uno staff quando arrivò alla Juventus la sua vita cambiò radicalmente un avvocato l'avvocato a Villarperosa ho detto un per definirlo ma disse ma questo Viali quando è arrivato da noi era un po' sovrappeso ora è una un grande atleta e in forma scatta insomma fu un grande calciatore vado ogni tanto a rivedere le sue vecchie partite devo dire era davvero non posso definirlo fuoriclasse ma un grande grande campione Ezio guarda Massimo sì sono d'accordo con tutte le cose che hai detto è stato veramente un grande giocatore un grande un grande campione un giocatore io credo amato trasversalmente da da ogni tifoseria per la grande educazione per il grande rispetto per l'eleganza per una per la misurata saggezza che ha sempre saputo esprimere sia durante la la sua carriera che dopo può nei nei perversi diversi che ha poi successivamente intrapreso di Gianluca detto anche Gianluca Caccio Viali si è facile ricordare che è stato il nostro ultimo capitano l'aveva alzata al cielo la coppa più a vita io personalmente ricordo e ricordo forse anche più emblematico del Gianluca Caccio Viali calzatore e trascinatore era quello del suo modo di andare a raccogliere la palla in rete e riportarla di corsa verso il centro campo per farla rimettere in gioco perché anche il pareggio gli andava ovviamente stretto e di lui ho davanti agli occhi il fotogramma di quella famosa partita di quella Juventus Fiorentina in cui lui di cui si ricorda certamente quel magistrale Goldi del Piero ma ma prima c'era stato tanto tanto tantissimo Viali in tutte le sue caratteristiche di giocatore di trascinatore di formogliere ecco questo è secondo me il ricordo di Viali che io ho più vivo detto questo ma aggiunto permettimi va aggiunto un'altra cosa Massimo perché in un mondo e lo sappiamo perfettamente tu ancora più di me in cui questi personaggi che più delle volte non conosciamo ci diventano familiari perché ci accompagnano negli anni con le loro imprese quando conosciuti personalmente nella maggior parte dei casi si rivelano deludenti qualcuno arriva anche a far schifo invece Gianluca Viali invece era una persona straordinaria straordinaria per per umiltà per per spessore per spessore umano e e la grandezza dell'uomo ti dirò anche se a chi osserva solo il gioco poco importa invece io amo specificarla travalica quella che è stata la grande grande bravura del del giocatore che non ha mai smentito se stesso nemmeno fino all'ultimo annichilendo sfidando la retorica del leone del combattente di colui che sta affrontando eh una battaglia tutta letteratura tutta aria fritta tutta povertà di pensiero in realtà Gianluca Viali eh ha accettato con estrema dignità eh coraggio e e voglia di vivere eh questa malattia che 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 è diventata che è diventata fatale cercando come già faceva prima di essere di esempio eh per gli altri e per la per le proprie figlie il primo il primo e primissimo eh luogo eh definendo 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 questa malattia una eh indesiderata compagna 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 di viaggio eh questo a mio avviso sempre a poco ma lo ha reso eh grandissimo come diciamo noi juventini eh fino fino alla fine eh Gianluca Viali si è spogliato della sua veste terrena continuerà continuerà a vivere eh diversamente eh soprattutto anche soprattutto nei cuori di chi l'ho amato e riporta tutto a dimensioni umane e io ho detto prima un brutto anno ha cominciato male anche Tino Castano simbolo di un'altra Juventus se ne è andato un ricordo eh va anche a lui due Juventus due generazioni diverse la Juventus delle casacche che si gonfiavano e diventavano gobbe e da lì il termine Goeba Gianluca Viali Pelè eh diciamo che in altra dimensione potranno giocare a calcio delle belle partite sicuramente con valori diversi rispetto a quelli che oggi eh permeano il nostro campionato che non sono più quelli di un tempo ricordo ancora quella formazione che vinse la Champions e ricordo anche un un simpatico aneddoto andai dal barbiere che era un grande tifoso di calcio ai tempi in cui Vialli si era totalmente rasato e mi disse te li faccio alla Vialli? Pensate già allora però in maniera del tutto innocente riuscivano a lanciare anche atteggiamenti e mode. Vialli è sempre sempre esatto c'è anche forse qualcosa di romantico nel fatto che Gianluca Vialli abbia concluso questa sua esperienza terrena dopo Cremonese Juventus no? Le tue squadre è vero in mezzo c'è stata tanta tantissima eh eh salloria ma ecco mi piace pensare che eh che non sia stata casuale ecco questa tutto può essere di questo di questo momento eh hai fatto bene benissimo eh l'avrei fatto anch'io in chiosa a ricordare Tino Castano il mio primo capitano il capitano del mio primo scudetto di vissuto eh eh consapevolmente di quella Juve rimbertiana operaia campione d'Italia nel 1966-67 eh campione d'Italia di di un'Italia diversa di un calcio di un calcio diverso eh di un calcio forse più eh eh un sparte ma certamente più autentico ciao 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 Tino era erano le domeniche del calcio le domeniche dove si attendevano agli eventi eh iscrivetevi al canale buona buon proseguimento di giornata a tutti voi a UGG iscrivetevi al canale